Ad una settimana dallo sciopero generale del 12 dicembre l'aula consigliare del municipio adriatico Gremita e gli interventi dei rappresentanti sindacali che hanno parlato del lavoro in Abruzzo al loro segretario Landini testimoniano la compattezza della FIOM nella nostra regione. Il segretario regionale dei metalmeccanici Alfredo Fegatelli ha disegnato un quadro in chiaroscuro della realtà industriale abruzzese dove a brillare restano quasi esclusivamente due colossi come Finmeccanica all'Aquila e la Sevella da Tessa nel contesto di una generale contrazione dei posti di lavoro. Troppo abbiamo una situazione un po' a macchia di lopardo, noi abbiamo il territorio aquilano che è completamente in crisi e qualche eccezione del gruppo Finmeccanica, poi c'è il territorio terramano che sta entrando in una forte crisi soprattutto delle piccole e medie imprese con aziende che falliscono quotidianamente, il territorio pescarese che è simile a quello terramano e poi invece abbiamo una situazione un po' particolare per quanto riguarda il territorio del Chiedino dove c'è la più grossa fabbrica sicuramente di auto d'Italia che è in funzione, che è da volano per tutto quanto quel territorio. Manca una settimana la manifestazione del 12 da questo attivo regionale e cosa uscirà? Uscirà una forte volontà ad andare avanti sulla manifestazione, la manifestazione sarà fatta a Pescara, noi parteciperemo come organizzazione in modo massiccio però per noi questo è solo l'inizio di un percorso perché vogliamo respingere quello che è un atto non corretto da parte del governo. A livello regione si può intervenire, si può fare qualcosa? Noi abbiamo già chiesto alla regione Abruzzo di avviare un processo di politica industriale all'interno del nostro territorio, basta solo pensare che la Sevel in un semestre fattura quanto tutto il turismo in Abruzzo quindi c'è bisogno sicuramente di dare una risposta all'industria di questo territorio.